Vittoria interna per la Vigor Perconti di Mosciatti nella nona giornata del campionato Under 17 Elite, girone A, i Blaugrana abbattono allo Sporting Center per 2-1 l'Accademia Lodigiani, doppietta da parte di Moabat Suan, gol ospite di Alessandro Colace su di calcio di rigore. Tredicesimo minuto e Vigor in vantaggio alla prima vera azione da gol, crossa all'interno dell'area di rigore di Andrea Orlandi e Moabat Suan, dara pace vero, batte i due difensori dell'Accademia Lodigiani e porta di testa in vantaggio i suoi, 1-0. Al diciassettesimo calcio di punizione per Ladispoli, Alessandro Colace va l'abbattuta a destra, murato da Dapote in calcio d'angolo, poi ancora Vigor e ancora gol, al ventinesimo minuto, crossa all'interno dell'area di rigore, altro gol fu di testa da parte di Moabat Suan e palla in rete, annulla la respinta corta da parte di Costantini che mette il pallone in rete, gol per Moabat Suan e doppietta personale. Ladispoli che si fa rivedere al venticinquesimo, altro calcio di punizione per Colace, altra risposta da parte di Dapote, poi prima frazione di gioco che termina con l'occasione al trentacinquesimo per il numero sei Blauglana, scaccia che prova il sinistro, Mura, Teotori con il pallone che resta lì, Vigor per Conti che riparte anche nella ripresa al secondo minuto di gioco, palla all'interno dell'area di rigore, cross da parte di Orlandi, ci prova il numero due Lusani, palla alta, sopra la traversa Ladispoli che invece ci prova al minuto numero 23 con il numero 17, Pesce entrato nella ripresa, Dapote manda il pallone in angolo, calcio di rigore per Ladispoli al minuto numero 27, sul susseguirsi di questo calcio di punizione viene atterrato il numero 11 De Muntis, il direttore di gara, non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri va il numero 10 Alessandro Colace che batte da Pote, riaprendo praticamente la gara, 2 a 1. Vigor che però si chiude e lascia una sola vera occasione nel finale alla Ladispoli, palla in verticale, confusione di destro che termina sull'out e match che praticamente termina qui, Vigor 2, Accademia Ladispoli 1. Vigor 2, Accademia Ladispoli 1.